...e Ciala, che è un giocatore tecnicamente molto bravo, ma non è quello che ti salta. Attenzione, grande palla di Brozo per Dufris, che può metterla in mezzo! È bello! È bello! Diva! 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 Federico! Di Marco! 1-0 per l'Inter! Bella palla di Brozo in verticale per Dufris, che si butta nello spazio. Grossi in orizzontale, che attraversa tutta l'area di rigore. Non ci arriva Romelu, davanti a Rui Patricio. Ci arriva però sul secondo pallo di Ima, che col piattone di Mancino la butta sotto l'altraversa, o meglio, la butta in porta. Diviazione sotto l'altraversa. 1-0 per l'Inter! Federico Di Marco! Tutto buono! Buono, buono, buono! Dufris è in gioco, il cross... Bella palla di Dufris! Scatto di Romelu, c'è la chiusura di Banez. Poi però sbaglia i Banez! Romelu, tutto solo, davanti a Rui Patricio! Grazie! Grazie Romelu! Bravo! Grande Romelu! 2-0 per l'Inter! 2-0 per l'Inter! Sbaglia la difesa della Roma, Lautaro deve solo dare la palla a Lukaku, che la prende al limite, guarda la porta e col sinistro batte Rui Patricio. 2-0 per l'Inter, che ha segnato Mario? Romelu Lukaku! Chi? Non i Banez, non ha segnato i Banez. Ma io sono contento, ragazzi! Cosa fai Banez? Ma come fa un difensore in Serie A a fare una roba del genere? Così è buono? Ma spiegatemi come fa! Mi sembra tutto buono! Ma cosa comunque Lukaku? Bravissimo anche Lautaro!